Paolo Petralia oggi è il 4Dreamers, anteprima del Festival del Digitale Popolare. Il suo intervento si chiamava Vorrei ma non posso. Cosa significa e soprattutto cosa c'entra il digitale? Abbiamo bisogno tutti di una cifra di visione, di creatività e di innovazione per riuscire a vivere il quotidiano nella prospettiva di poter cambiare in qualche modo la realtà. Abbiamo bisogno di sognare, abbiamo bisogno però anche di poterlo fare con strumenti reali, concreti. Il digitale è esattamente uno di questi. Parlando del sistema sanitario nazionale, noi vorremmo poter avere un sistema davvero eco, uguale, capace di garantire le prestazioni necessarie a tutti. Ma tutto questo purtroppo non è realtà. Abbiamo a che fare con carenza di risorse, sia umane che materiali, in particolare economico-finanziarie e di professionisti. Abbiamo a che fare con regole ormai vetuste, alcune risalenti a parecchi decenni fa, mentre invece potremmo e desidereremmo poter avere la disponibilità di strumenti veloci, di strumenti capaci di rispondere ai bisogni di oggi in maniera semplice ed efficace. E anche in questo caso il digitale potrebbe darci le risposte necessarie. Ma soprattutto abbiamo bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, di ciascun cittadino che senta sempre di più il sistema sanitario e i problemi della salute come propri e insieme a tutti gli altri, a tutti noi, concorre a dare risposte. Tutto questo in un ecosistema digitale che avvicina, non mette distanza tra le persone, può essere davvero una delle possibili soluzioni a pensare a un sistema sanitario nazionale e quindi alla nostra salute presente, reale, fruibile e ancora una volta di qualità come è l'attuale. Grazie a tutti.